Il cinabro era usato nei tempi antichi per creare un pigmento arancione chiaro che si usava per ceramiche, murali, tatuaggi e cerimonie religiose. Si tratta di un piccolo aratro da piede tradizionale, usato tuttora sulle ande, anche fuori paetiti. A volte i mezzi più semplici sono ancora i migliori. Il canopo serve per raccogliere le offerte di cacao e sieguo animale. I contadini ne lanciano uno pieno sui propri campi all'inizio della stagione del raccolto, come dono a Pachamama, la dea madre. Si dice che se il dono viene accettato, il contadino avrà un ricco raccolto e una stagione riproduttiva di successo. Gli Inca usavano una combinazione di liofilizzazione e sale per conservare qualsiasi cosa commestibile. Charqui e sciugno sono sostanzialmente carne e patate. Deliziosi. Questi vasi cerimoniali di ceramica sono usati per conservare birra di mais o ciccia. Il fondo di questi urpu è normalmente a punta, per aiutare a versare il contenuto in recipienti più piccoli. I popoli andini hanno perfezionato l'arte della tessitura per migliaia di anni. Questa ciospa ne è un magnifico esempio. Fatta di lana d'alpaca o di lama e usata tradizionalmente per trasportare foglie di cacao, è una chiara dimostrazione dell'abilità del tessitore. Splendida.